In Regione Liguria è stata riscontrata una significativa carenza di scorte di sangue. Questo è quanto è stato diramato in questi giorni da un comunicato ufficiale. Quali sono i dati che abbiamo a disposizione? In questo momento abbiamo sulle 6.500 donatori, raccogliamo sulle 8.500-8.600 sacche. A livello regionale siamo sedi sotto la scorta di 1.100 sacche e si sta creando un po' di problemi di carenza. Invitiamo i donatori che sono i doni che hanno passato il periodo di fare una donazione e l'altra a presentarsi e per donare. In modo particolare vengono ricercati due gruppi sanguigni. Si viene ricercato lo zero positivo e negativo e la positivo e negativo, che sono quelli che mancano di più in questo momento. Quindi l'appello è ai donatori a venire, quelli che sono già donatori di fatto, ma anche ai nuovi donatori? Sì, anche ai nuovi donatori perché diciamo che a livello provinciale come donatori siamo un po' bassi rispetto alla popolazione. Poi per quanto riguarda i donatori possiamo dire che ci sono 4-5 punti dove poter donare. Uno è l'ospedale, il sit, quindi presso l'ospedale Sant'Andrea, che si può donare da lunedì a sabato tutti i giorni, nelle ore la mattina. Poi presso l'ospedale di Sarzana, che si può donare il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Poi si può donare presso l'unità di raccolta dell'Avis Comunale di La Spezia, che è in via Casari 19, e si può donare il martedì, il mercoledì e il venerdì. In più si può donare tutte le prime domeniche di ogni mese, la prima domenica di ogni mese. Poi si può donare ad Arcola, per quanto riguarda... Arcola ha fatto una raccolta straordinaria il giorno 27 di agosto, e in più l'Avis Provinciale ha organizzato un'ulteriore raccolta il 31 dicembre di agosto a Sesta Godano. Quindi il nostro invito è questo, non solo ai nostri donatori, ai nostri 6500 donatori, di poter fare qualche donazione in più, ma soprattutto ai cittadini che si avvicinano un po' a questa pratica del dono.